Rifinitura e partenza per la Sicilia. Il viaggio verso Messina apre per il Foggia una doppia trasferta che può risultare fondamentale nella corsa verso i play-off. Due scontri diretti per i rossoneri, domani sul campo della formazione peloritana, sette giorni più tardi a Latina. Con una consapevolezza per sognare un finale scoppiettante e prendere parte alla coda a promozione, sarà necessario cambiare passo fuori casa, perché lontano dallo Zaccheria finora il Foggia ha prodotto poco. Alla vigilia è toccato al tecnico Cudini fare il punto della situazione. L'allenatore marchigiano, che domani dovrà fare a meno oltre che degli infortunati lungodegenti, anche degli squalificati Bezzoni e Riccardi, ha parlato prima di salire sul pullman pronto a mettersi in viaggio per la Sicilia. Conta tanto perché poi andiamo alla ricerca del miglioramento, quindi questa squadra il miglioramento in questo momento deve farlo soprattutto fuori casa, come risultati, come prestazioni, come atteggiamento e quindi bisogna migliorare e quindi per farlo bisogna poi dimostrarlo in campo e quindi ci sarà partita per partita, abbiamo quattro partite fuori casa su sei, quindi dobbiamo brigatoriamente se vogliamo raggiungere qualcosa di importante, quindi è uno step che dobbiamo fare. È normale che ci arriviamo con grosso entusiasmo, perché aver vinto in casa la partita scorsa ci dà grosso entusiasmo, ci dà grossa consapevolezza, però poi di partita in partita bisogna ragionare su quello che incontriamo, quindi incontriamo una squadra diversa da quella che è la Juve Stabia, però con caratteristiche importanti e quindi dobbiamo stare molto attenti. Però noi ci andiamo consci delle nostre qualità e come ho detto, se affrontiamo, approcciamo bene la partita potremmo condurla in una maniera, non dico positiva, però sicuramente in una maniera più consona a quelle che sono le caratteristiche anche a scuola avversaria. La Juve Stabia ha trovato, credo strada facendo, come ho detto prima, gli equilibri, cambiando vertice basso con un vertice alto, da 4-3-3 al 4-2-3-1, è riuscito a trovare quegli equilibri. Per il resto è una squadra che anche all'andata, al di là che sembrava che quando è venuta da noi fosse una squadra, non dico destinata a soffrire fino all'ultimo, però aveva già fatto vedere che aveva buona individualità, Giunno è uno di questi, ma ha tante altre individualità in rosa e quindi dobbiamo stare molto attenti perché hanno un reparto offensivo con caratteristiche diverse, ma ognuno capace di poter incidere e su questo dobbiamo stare molto attenti. Per il resto è normale, a volte ci vuole sempre un po' di tempo per quando allestisci una squadra e quindi anche loro hanno pagato questo scotto e quindi però noi dobbiamo far caso al presente e quindi il presente dice che il Messina è una squadra in salute, che il Messina è una squadra che in casa sta facendo bene, al di là di fuori, è una squadra che è vero che viene da due pareggi, da due trasferte, però è una squadra che riesce ad essere solida in alcune situazioni e quindi noi dobbiamo cercare di sfruttare quelli che sono i loro difetti, però questo passa da una prestazione importante perché se pensiamo di farla solo sotto l'aspetto tecnico o tattico, come ho detto tante volte, sicuramente non basta. andremo in un campo difficile, sarà una squadra aggressiva, sarà una squadra che metterà molto agonismo e quindi dobbiamo stare pronti.